per sedersi in open sim è facile ma è più semplice se come potete vedere sedie o divani sono predisposti con uno script all'interno di seduta, la cosiddetta seduta in questo caso avvicinando il mouse alla sedia o al divano compare una seggiolina e basta cliccare col sinistro del mouse e ci si siede in maniera corretta per alzarsi basta cliccare su alzati che sta qui in basso alzati proviamo ora a sederci sul gradino dove non c'è la seduta magari in questo punto clicco con il destro del mouse clicco su siedi qui e vedete che mi sono seduta anche se malamente non poi nel punto voluto clicco su alzati posso provare a sedermi sul vaso sempre con il destro del mouse siedi qui e vedete che mi sono seduta all'incirca sul vaso ma la posa non è esattamente perfetta perché sul vaso non c'è lo script di seduta ora provo ad alzarmi alzati e mi avvicino all'albero clicco qui sull'albero col destro del mouse siedi qui e vedete quindi un altro effetto che mi sono seduta in maniera un po' scorretta alzati ora andiamo nel giardino qui mi giro tanto era per vedere qui ci sono c'è una specie di gradino provo a sedermi qui mi avvicino un po' siedi qui e mi sono seduta proprio quasi dentro la colonna alzati quindi ci si può sedere e alzare da tutte le parti mi risiedo qui siedi qui ma come vedete non la seduta la seduta sugli oggetti che non hanno uno script è a volte imperfetta ma anche quando sedie poltroni e divani hanno lo script bisogna che questo script sia calcolato esattamente nella X nelle dimensioni della X della Y e della Z soprattutto della Z per dare la giusta seduta alla persona comunque è interessante questa cosa del potersi sedere sugli oggetti da qualsiasi parte e di potersi poi alzare adesso vediamo l'altra modalità di per sedersi dal menu io movimento siediti vedete che mi sono seduta in maniera abbastanza carina in questo caso per alzarmi clicco con il destro del mouse alzati sempre dal menu io in movimento ho anche il comando siedi a terra ecco questo è l'effetto del siedi a terra utilizzando il comando non rimango in sosteso non rimango storta e quindi è un'ottima modalità anche questa per sedersi sempre con il destro del mouse alzati mi alzo ecco fatto quindi abbiamo visto che ci si può sedere e alzare lo si può fare o dal menu cliccando sull'avatar siedi qui oppure dal menu io abbiamo anche detto dal menu io movimento siediti e siedi anche a terra abbiamo anche detto che quando le sedie e i divani o i letti hanno la posa ossia lo scritto in dentro ci si siede con più facilità e in maniera più adeguata buonasera o i letti o i letti o i letti